Amici di Maria De Filippi, si accende la scintilla tra prof e l'allievo amatissimo del talent Arriva la foto social che lascia davvero tutti di stucco. Ecco chi sono i protagonisti di questo scatto che ha fatto il giro del web Che grande sorpresa per i fan del talent Amici di Maria De Filippi, è nata una nuova coppia Prof della trasmissione perde la testa per il famosissimo alunno I dettagli, Amici, colpo di scena, fan della trasmissione senza parole nuovo colpo di scena ad Amici di Maria De Filippi Il talent condotto da oltre 20 anni dalla moglie di Maurizio Costanzo continua a riservare ancora tantissime sorprese ai suoi seguitori Sebbene sia terminato ormai da qualche mese, si continua ancora a parlare dei protagonisti che anche quest'anno hanno tenuto compagnia al pubblico italiano Che si affeziona sempre ai giovani talenti che riescono a superare le selezioni e a sedere tra i banchi della scuola più famosa e ambita d'Italia Nell'Accademia Mariana gli alunni fortunati hanno la possibilità di lavorare a stretto contatto con un team di professori che impartisce loro insegnamenti e basi tecniche della disciplina nella quale intendono eccellere A proposito di professori, sapete che cosa è accaduto? Ve lo diciamo noi, prof del talent perde la testa per l'allievo, scatta la scintilla tra di loro La foto social sconvolge i fan, chi è la nuova coppia, nata dopo il talent non si nascondono più e sui social si mostrano affiatati più che mai, prof del talent perde la testa per l'amatissimo allievo Protagonisti di uno scatto che ha fatto il giro del web sono Raimondo Todaro e Nunzio Stan Campiano Il prof amatissimo del talent Amici di Maria De Filippi e l'alunno più peperino dell'ultima edizione del programma Mariano, si sono ritrovati insieme in Sicilia, più precisamente a Fondachello, il paese natale del giovane talentuoso I due si sono lasciati immortalare in uno scatto che è stato pubblicato poi da Raimondo Nell'immagine in questione, si vede il professore di latinoamericano, in ottima forma fisica, abbracciato a Nunzio, anche lui bello come il sole e sorridente Alle loro spalle, il meraviglioso mare cristallino della Sicilia La didascalia pubblicata da Todaro a corredo della foto ha fatto impazzire i fan, insomma, i due si vogliono davvero bene e si vede Nunzio e Raimondo si conoscono da un po' di tempo, il loro è un legame che perdura da anni Todaro è stato infatti il maestro di danza di Nunzio fino a cinque anni fa e per caso, si sono ritrovati a condividere insieme anche l'esperienza di amici Un rapporto, il loro, non solo professionale che tanto piace al pubblico il quale ha riempito il post di Raimondo con tanti commenti positivi e messaggi dolcissimi Dunque sono proprio loro la coppia dell'estate, come ha scritto lo stesso ballerino che intanto ha ritrovato la felicità accanto a Francesca Tocca I due si erano separati per un po' di tempo ma è stata proprio la trasmissione di Maria De Filippi a rimettere pace tra di loro Anche Francesca, probabilmente colei che ha scattato questa foto che è diventata virale, è finalmente tornata a sorridere accanto al suo uomo E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video